E beh a tutti ragazzi sono in questo video Oggi siamo qui per andare a vedere un'ovista XP glitch Che vi darà tantissimi XP e livellare un botto Per altri video del genere mi raccomando Andatevi a iscriverti e attivate la campanellina delle notifiche Per rimanere a giudizi su tutti i video E iscrivetevi anche attivando la campanellina Delle notifiche Quindi ragazzi iniziamo subito Dobbiamo andare a usare le modalità su codici Solo mettete questo codio 632184830328 Andate a premere in via e premete Gioca la partita deve essere privata e non pubblica Se non il glitch non andrà Ora avviate la partita Perfetto ci troveremo qua Mi ricordo che se volete ricevere tantissimi XP E volete supportarmi per altri video E per ricevere più XP Mi raccomando Utilizzate il codice Supporto un produttore Codingame a 582 Beh raga ora andiamo qui su exit Dobbiamo scendere E ci ritroveremo qui sopra Quindi ora andiamo a premere Cioè a prendere qui il rampino Iniziamo quindi raga Lì ci sarà questo E qui abbiamo queste appunto scale Noi dobbiamo andare esattamente qui raga E partire a costruire da questo punto Dobbiamo costruire 4 pavimenti Finquanto non ci porta E in una stanza Perfetto raga Ora che ci troviamo qui Perfetto Andiamo ad andare qui Quindi andiamo qui raga E andiamo ad alzare la visuale Prima il pulsante Secret XP E andiamo a vedere raga Che ci darà tantissimi XP Queste sono delle migliori mappe Che abbiamo al momento Quindi come state vedendo Ci sta tanto di XP Ora andiamo al prossimo Ora ragazzi Partendo da questo punto Quindi lì ci sarà la partita dello span Partiamo da qui Iniziamo a costruire 1 2 3 4 E 5 E 5 pavimenti Quindi 1 2 3 4 E 5 Andiamo a premere il pulsante Secret XP E andiamo a vedere Che ci andrà a dare Altri XP Come state vedendo Perfetto Ora raga andiamo al prossimo Comunque continuerà a darci davvero tanto Abbiamo quasi fatto un livello Ora raga Da sempre da questo punto Dobbiamo andare Qui in questa zona Quindi seguite bene Attentamente Partendo da qui 1 2 3 Perché dobbiamo andare ad aggiungere Altri 2 E poi andiamo anche al terzo Beh raga Vi dovrebbe portare qui Qui sotto A premere il pulsante Secret XP Andiamo a premere E andiamo a vedere Che ci andrà a dare Altri XP Usate il rampino Per andare qui Perfetto Ora andiamo a premere Qui il pulsante Spegni Ci troveremo appunto Questa barca Qui dovete costruire 10 scale Quindi 2 3 4 Campino per andare Da quest'altro lato Ora raga Dovete andare Qui E poi scendere Che dovete girare E andare ancora più giù E dovete andare Qui sotto Perfetti Qui ci sarà una cella Dove dovete appunto entrare Raga Qui avremo i pulsanti Secret XP Ed ecco che ci andrà a dare XP Come state vedendo Per altri video del genere Mi raccomando Iscriviti E attivate la campanita Delle notifiche Ciao ragazzi Bye